La serata è veramente bella, l'insegna della buona musica, del buon cibo e soprattutto del buon caffè. Ah, caffè, ma ti è piaciuto questo caffè stasera? Beh, è un caffè veramente eccezionale perché non contiene caffeina che fa male, ma contiene una sostanza che è assolutamente benefica per il nostro organismo, che oltre ad essere un antiossidante è una sostanza che cura tantissime patologie, ma questo ve lo dirà Aldo. Va bene, va bene. Ma tu sei allora la nostra consumatrice? Assolutamente sì, consumo tutti i giorni, non consumo più il caffè normale perché non mi piace, perché mi fa male soprattutto. Ah, ho capito. Senti, ma parliamo della serata. La gente che hai incontrato qua stasera? Beh, gente veramente bellissima, semplice, che soprattutto vuole divertirsi in maniera genuina. Bene, bene. Che consiglio puoi dare a chi ci sta ascoltando adesso? Beh, di provare questo caffè perché è veramente buono e conviene provarlo perché sicuramente vi piacerà e non ne farete mai a meno. Senti, ascolta, è del progetto che abbiamo presentato stasera? È un progetto interessante, è veramente un'opportunità di lavoro della new economy, come dice Aldo. Sì, infatti, new economy. Attraverso il web possiamo fare il nostro business e ci possiamo creare la nostra redditività. Grazie a Daniele e andiamoci a divertire in questa serata folle della Discoffee.